ben trovati ricominciamo il nostro percorso su camera raw e partiamo col capire quali sono i file che camera raw può processare come vi dicevo nel video precedente i file camera raw nasce come dice il titolo per aprire e lavorare i file raw potreste avere una macchina recente che produce un file raw che non è supportato da camera raw bisogna aggiornarlo in continuazione se se cambiate macchina e non trovate non vi da la possibilità di aprire i vostri file è perché va aggiornato ma questo di solito dal momento dell'uscita di una macchina è abbastanza veloce a meno che non sia proprio un modello molto molto particolare che non giustifica l'adobi il fatto di fare un aggiornamento quindi sicuramente tutte le volte che voi in qualsiasi punto fate un doppio clic per aprire un file raw che sia dal finder che sia da cambridge o direttamente da photoshop facendo file apri vi si apre il camera raw vediamolo questo è un punto cr2 ed è un file proveniente da una canon mark 2 o tre non mi ricordo cliccando due volte si apre appunto all'interno di camera raw se io faccio la stessa operazione all'interno di photoshop quindi file apri nella cartella montagna adesso non mi ricordo quale di questo quella della pecora ma è lo stesso poco importa eccola qui mi si apre in camera raw poi come come dicevo nel video precedente da qualche versione camera raw permette di lavorare non solo raw ma anche jpeg o tif però se io faccio un doppio clic sul file jpeg lui si apre in photoshop vai passando camera raw quindi come faccio ad aprire un jpeg in camera raw nella versione ultima c'è una novità che vi dico dopo comunque in tutte le versioni compresa l'ultima aprendo il file all'interno di bridge è possibile col pulsante destro aprire il menu contestuale dove vedete che oltre apri apri con c'è anche apri in camera raw in questa maniera il file si apre all'interno di camera raw il formato psd non viene aperto all'interno di camera raw quindi anche col menu contestuale pulsante destro non è possibile aprirlo all'interno di camera raw ma anche qui c'è un ci sono alcune cose da dire che magari dico più tardi mentre il formato tif come il formato jpeg è possibile aprirlo in camera raw sempre col pulsante destro da bridge le novità stanno nel fatto che se io modifico le preferenze di camera raw nell'ultima versione posso fare in modo che tutte le volte che io clicco due volte su un jpeg lui automaticamente me lo apra comunque all'interno di camera raw come faccio modificare le preferenze di camera raw o da bridge direttamente quindi sono all'interno di bridge faccio file no scusate adobe bridge cc nel mio caso preferenze di camera raw oppure all'interno di camera raw quindi dovete aprire in qualche modo con una foto camera raw c'è questo pulsantino non so se lo vedete 1 2 3 4 5 7 10 11 12 il tredicesimo pulsantino che è quello che vi apre le preferenze di camera raw all'interno delle preferenze di camera raw che poi vedremo c'è l'ultimo pezzo in cui ti dice trattamento jpeg e tif in pratica ti dice apre automaticamente i file jpeg come da impostazione e questo vuol dire che cliccando due volte su un jpeg si apre in photoshop e stessa cosa per il tif se voi invece qui mettete apre automaticamente tutti i file jpeg supportati e tutti i tif supportati e fate ok chiudo se adesso torno in bridge e clicco due volte su un tif lui me lo apre automaticamente in camera raw questo come vi dicevo è una novità dell'ultimo camera raw cioè dell'otto 8.6 però può essere più o meno comoda io personalmente preferisco farlo col pulsante destro perché sennò tutte le volte lui me lo apre in questa maniera però se voi invece siete abituati a utilizzare molto camera raw e volete aprire tutto lì potete automatizzarlo diciamo modificando le preferenze una piccola differenza un'altra cosa importante che dicevo prima sul psd in realtà adesso camera raw già dalla versione 6 ci permette di aprire i file come oggetti avanzate e quindi alla fine di poter collegare un psd a camera raw ma questo lo vedremo più avanti quando affrontiamo tutto il tema appunto degli oggetti avanzati vi saluto e vi rimando alla prossima puntata grazie a tutti